A metà 2020, se volessimo acquistare una cam a 360 gradi, ricadremmo su due scelte, ovvero la Insta 360 One R oppure la GoPro Max. Ma quale è meglio e soprattutto quale fa al caso nostro per determinate caratteristiche? Scopriamolo assieme in questo video. A metà 2020, se volessimo acquistare una cam a 360 gradi, ricadremmo su due cam a 360 gradi. In tutti i sensi, perché la analizzeremo a 360 gradi, volevo precisare che questo video non è sponsorizzato né da GoPro né da Insta e il mio giudizio sarà frutto dei test che vedremo assieme. Inoltre, se acquisterete una cam o l'altra, a me non cambierà nulla perché i link qua sotto in descrizione sono di affiliazione generica. Detto questo, iniziamo a vedere cosa ci arriva se ordiniamo una cam oppure l'altra. Confezione della Insta, io ho preso la Twin Edition, ovvero ci arriverà con il modulo a 360 e il modulo 4K per trasformarla in una classica action cam. Oltre a questo, troveremo un cavo USB di tipo C e un panno in microfibra, libretto delle istruzioni e i classici adesivi Insta. Il paralente per il modulo a 360, davvero molto comodo e un classico adattatore stile GoPro a vite da cavalletto. Infatti, la nostra a 360 gradi della Insta avrà il case, simile il GoPro, i rosette e varie. Questo è tutto per quanto riguarda la One R. GoPro Max, classico packaging stile GoPro, con tutte le varie caratteristiche. Andiamola ad aprire, per cui si tirerà. All'interno troviamo giusto qualche accessorio, qualche attacco, sempre il classico cavo USB-C per ricaricarla e per il trasferimento dati. Se non vogliamo togliere la microSD, alcuni adesivi GoPro, un pratico astuccio in microfibra per trasportare in tutta sicurezza la nostra GoPro Max. Il coprilente qua è singolo, dovremo toglierne uno e poi l'altro dall'altro lato. Un pochino più comoda la soluzione di Insta. Troviamo inoltre nell'astuccio anche questi coprilente da andare ad inserire se andiamo a fare qualche sport estremo, in modo tale che se dovesse cadere non si rovinerà la lente, ma si rovina solamente il coprilente. Un'ottima soluzione. L'accessorio necessario per poter utilizzare questa tipologia di cam è sicuramente un selfie stick. Questo è il selfie stick di Insta, veramente molto comodo, ben realizzato e anche parecchio lungo, in quanto più ci allontaneremo e più potremo prendere una scena grandangolare. GoPro ha realizzato questo selfie stick con il treppiede incorporato, si svita, si allunga e come potete vedere è parecchio corto, non è proprio una soluzione ideale a mio avviso. Ovviamente potrete utilizzare quello di Insta un pochino più lungo e secondo me molto più funzionale. Se su Insta volessimo acquistare il treppiede allora si può fare, in più avremo l'opportunità di utilizzarlo anche per la funzione bullet time che è veramente favolosa, non ha tantissima qualità però rende parecchio. Come potete vedere anche lui diventa un treppiede. E più o meno siamo su 60€ questi due accessori e 60€ forse qualcosina di più per quanto riguarda il treppiede di GoPro. Mentre vi parlo di accessori, a mio avviso Insta per quanto riguarda il reparto 360 gradi ha più accessori dedicati, come ad esempio questo selfie stick, ora non sto ad aprirlo, completamente in carbonio, pensate un po', arriva a tre metri per fare delle riprese effetto drone. Per quanto riguarda la gamma accessori sicuramente Insta è un passo avanti. Forse il fatto che Insta è nata proprio come camera 360, dato il nome Insta360. Parliamo di costruzione e design. Sicuramente hanno un design accattivante, entrambe più o meno le dimensioni sono identiche, una un pochino più stretta, l'altra un pochino più lunga, ma sono pressoché identiche. GoPro ha l'attacco che salta fuori, come la GoPro Hero 8, davvero comodissima questa soluzione e non ha bisogno di case. Su entrambe le cam troviamo uno schermo touchscreen, devo dire che su GoPro, essendo anche più grosso, è un pochino più capacitivo e risponde meglio ai comandi. E mentre si parla anche di reattività, vi lascio un piccolo test per quanto riguarda l'accensione e la registrazione del video. Quale sarà più veloce? Pronti, partenza, via! Come vedete la GoPro è un pochino più veloce. GoPro Max registra a una risoluzione massima di 5,6K, ovviamente la palla sarà di questa risoluzione, a 30fps. Per quanto riguarda la Insta, avrà una risoluzione massima di 5,7K, sempre a 30fps. Il video sarà più definito? Beh, subito un po' di test video per capire quale cam registra meglio. Prova di stabilizzazione, camminata e corsa. Camminiamo. E si corre! In teoria le due camere dovrebbero stabilizzare molto, molto bene. Per quanto riguarda CORCs, un po' di test video per capitare. Colapsare. Compartiere. Grazie a tutti. 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 Ci fermiamo, fermiamo la registrazione e attiviamo la modalità orizzonte bloccato on. Camminiamo e ora facciamo gli stessi movimenti di prima. Vediamo se si vede il cambiamento. Mentre per quanto riguarda la Insta360 dovremo proprio noi meccanicamente smontarla e andare ad applicare il modulo 4K sempre se abbiamo acquistato il kit. Ovviamente non possiamo parlare di risoluzione perché con il modulo 4K potremo registrare fino in 4K 30fps direttamente in formato MP4 per cui non dobbiamo nemmeno editarlo. mentre se vogliamo 60fps con la 60fps con il modulo 4K 60fps. mettere via l'altro modulo è un passaggio un po' noioso però avendo una qualità più elevata forse quei 15 secondi in più valgono la pena per portarci a casa una clip più definita e un pochino più carina poi ovviamente dipende dalle nostre esigenze se noi vogliamo passare in un battibaleno da modalità 360 modalità normale allora meglio gopro magari per non perderci un attimo che sfugge abbiamo già trattato parecchi argomenti di queste due cam qualità di costruzione entrambe costruite davvero molto bene la qualità video la qualità audio ma ragazzi un video a 360 gradi lo dovremmo elaborare lo dovremmo esportare non è così semplice e soprattutto dobbiamo dedicarci del tempo per cui è fondamentale dopo aver registrato una clip a 360 gradi avere un programma più funzionale possibile che ci permetta di appunto realizzare i nostri progetti che avevamo in mente io passerei a parlare della parte software molto importante per avere un video top esportato e lo potremo poi importare nel nostro programma di montaggio sì perché con una camera a 360 gradi dovremmo fare questi passaggi io inizierei da gopro vi dico subito grandissima delusione vi dico subito da qui che sembra di essere tornati a dieci anni fa non capisco come possa essere possibile che gopro con tutto il budget che ha abbia un programma del genere iniziamo con l'applicazione per il nostro smartphone se volessimo esportare un video appunto in formato normale non a 360 cosa dobbiamo fare dobbiamo accendere la nostra cam importare il video nel nostro smartphone quindi tutto il video a 360 gradi dopodiché mettere i keyframe quindi editare il video e anche qui potremo solamente mettere i keyframe dopodiché esportarlo e poi si potrà magari fare un po di color correction si potrà solamente velocizzare l'intera clip è troppo troppo basilare senza alcun tipo di personalizzazione ma se volessimo utilizzare il nostro pc bene se abbiamo un computer windows le cose si complicano perché vi faccio sentire la testimonianza del possessore di questa gopro max io vengo dal mondo della insta ho deciso di prendere la gopro max solo perché era impermeabile e l'altro giorno sono andato a fare un giro in ebike sopra casa nostra ho registrato tantissime clip con la gopro max al momento di editare i file avendo windows mi sono trovato un po spiazzato perché non abbiamo lo stesso programma che troviamo su mac i file registrati in questa camera il punto 360 ho dovuto esportarli col programma della gopro in un formato leggibile per premiere una volta importati su premiere ho dovuto editare il video 360 e pensate solo un video lungo più o meno dieci minuti esportato con quel programma mi teneva 160 giga di memoria nel computer una volta esportata questa clip l'ho importato su premiere ho dovuto editare i file 360 e poi esportarlo a 1080 e il file teneva più 4 5 giga era tutta un'altra storia se volete vedere video che ho fatto l'altro giorno premete qua sopra ho sempre voluto dirlo dopo questa esperienza la userò con molta moderazione filmerò solo nello strutture necessario per non avere questi file enormi poi da editare perciò per windows esiste un programma dedicato che si chiama gopro max exporter e ci esporterà il video e poi una volta esportato allora lo potremo mettere su premiere per cui ci vuole già parecchia attrezzatura e tanto tanto tempo se siamo più fortunati e abbiamo mac allora abbiamo un programma dedicato che si chiama gopro play ed è veramente un player ovvero non è nient'altro che un vlc con la possibilità di inserire qualche keyframe posizionare ogni volta e ribilanciare mettere tutta la clip correttamente dritta è veramente un lavoro assurdo fa passare la voglia io per editare le clip che avete visto davvero tra un po non facevo il video perché mi passava la voglia ogni volta dobbiamo raddrizzare la clip andare avanti è veramente un lavoro lunghissimo anche perché il programma è basilare se volessimo ritagliare magari la clip dobbiamo in pratica esportare di nuovo il video e poi dopo importarlo in questo player è veramente un'epopea gopro mi ha lasciato basito per appunto avere un programma così non è nemmeno programma di editing è solamente un player né più né meno con la possibilità di esportare una clip con qualche keyframe insomma è abituato al mondo insta360 avendo avuto anche la 360 one x beh abituato a tutti gli effetti soprattutto all'hyperlapse velocizzato direttamente dall'app con l'effetto laterale di motion blur è qualcosa di speciale beh se non abbiamo dei plugin su premiere pro allora con gopro sarà solamente un video a 360 così proprio basilare senza effetti lasciamo da parte gopro entriamo in insta360 si insta360 one r magari non avrà l'accensione rapidissima come ho visto su gopro lo schermo touch non è proprio così reattivo come su gopro ma sicuramente ha delle applicazioni sviluppate molto molto bene partendo dall'app per smartphone non dovremo avere gigabyte e gigabyte a disposizione basterà collegare la nostra insta avremo già tutta la libreria e già dalla libreria senza importare nulla sul nostro smartphone potremo già modificare la clip e una volta editata allora poi si importerà però si può personalizzare possiamo velocizzarla possiamo fare degli hyperlapse possiamo addirittura attraccare il soggetto in modo tale che non siamo sempre lì a mettere tutti i keyframe e abbiamo una miriade davvero di impostazioni e di possibilità per rendere il nostro video più particolare possibile e sfruttare il mondo 360 questa è l'idea giusta e soprattutto il senso giusto per filmare in 360 perché se solamente filmo in 360 per fare un giro allora lo posso benissimo fare a mano con uno smartphone e abbiamo ancora più qualità il mondo 360 è bello perché potremmo inventarci degli effetti che con camere normali non possiamo realizzare poi possiamo utilizzarla anche per andare magari a fare la nostra sciata oppure per fare il nostro giro in moto e allora riprendere con classici effetti a mio avviso il bello della registrazione 360 è la possibilità di andare ad effettuare determinati effetti se volete vedere tutte le possibilità gli effetti speciali che l'applicazione solo l'applicazione insta ci può offrire allora vi lascio un video dedicato qua sopra nelle schede passiamo invece al programma per computer e sia per windows e sia per mac identico e anche qui abbiamo tanta tanta personalizzazione dal track dai keyframe si mettono in un attimo non come sul player di gopro che dobbiamo ogni volta sistemare l'orizzonte c'è veramente un lavoro lungo e noioso altra cosa su insta studio potremmo prendere tutte le nostre clip e importarle in insta studio ci vorrà appunto tutta la lista dei video con la preview ben definita così da andare a lavorare su ogni video mentre sul player dovremmo selezionare il video importarlo chiudere il player aspettare che esporti tutto non aggiungo altro perché per quanto riguarda l'editing insta è avanti di vent'anni rispetto al gopro mi dispiace tanto sono rimasto davvero molto molto deluso dal software del gopro sia per la versione per smartphone ma anche per il computer e poi questa differenza tra mac e windows ho visto dei video americani così poi concludiamo dei video americani usciti a febbraio e dicevano che sicuramente usciva nei prossimi mesi il programma per windows e così non è stato ed è passato praticamente un anno dall'uscita di gopro max e i programmi sono rimasti identici conclusioni se siete i professionisti nell'editing a 360 gradi allora vi posso consigliare anche gopro max in quanto saprete sicuramente elaborare il file ed essere molto creativi ma se così non fosse allora la scelta ricaderebbe su insta a mio avviso insta sta facendo davvero un ottimo lavoro soprattutto sull'editing finale come detto prima non sarà velocissima ma almeno poi possiamo elaborare il video e non ci richiederà dei giorni questo è solamente il mio parere se anche voi avete una delle due camere fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate e noi ci vediamo presto in un prossimo video gopro scusami ma stavolta mi è proprio deluso molto meglio comprarsi una bella gopro iro 8 secondo me tanta roba in più ci vediamo in un prossimo video mi raccomando seguitemi su instagram e su telegram per le migliori offerte di tecnologia e non ti ok e Grazie a tutti.